Noi siamo chiusi per voi, voi restate a casa per noi e l'appello corale di parrucchieri ed estetisti che questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Catuma d'Andria per manifestare il proprio malessere verso le chiusure che non permettono di riaprire i saloni di bellezza in zona rossa. Una protesta gentile con un centinaio di operatori del settore presenti che ha rappresentato l'occasione per sollevare un appello rivolto ai cittadini solo grazie alla responsabilità di tutti, spiegano i manifestanti, si può uscire da questa situazione. Chiediamo questo appello ai cittadini comunque di iniziare ad avere veramente un buon senso perché non ne stiamo uscendo fuori, anzi Andrea sta aumentando giorno dopo giorno e quindi a meno di essere un po' più responsabili noi tutti perché se non si abbassano i contagi noi non apriremo mai come altre categorie. La maggior parte di parrucchieri ed estetisti non potranno avere alcun ristoro, in pochi infatti hanno superato la soglia limite minima di perdite del 30% per poter accedere ai contributi previsti dal decreto sostegno secondo i manifestanti rispetto ai precedenti ristori, questa volta non c'è stata equità di giudizio. La situazione dei ristori per quanto ci riguarda, ma penso anche a altre categorie, è un po' critica perché la nostra categoria all'85% non riceverà nessun ristoro perché dai dati che sono emersi dal 2019-2020 per il 30% di perdita, quindi non c'è stato ed è ingiusto in questa maniera perché rispetto sempre all'altra volta abbiamo ricevuto anche ristori per gli affitti, altri tipi di muovi, ma questa volta veramente siamo stati abbandonati. Gli operatori della bellezza sperano di poter tornare presto ad aprire i propri saloni e riprendere a lavorare in sicurezza, un aspetto ribadiscono che è già stato dimostrato in passato. Noi quello che speriamo, che auspichiamo è che le istituzioni capiscano che noi non contribuiamo nell'aumento dei contagi, sono quattro settimane che le nostre attività sono chiuse e nelle ultime settimane c'è stato un picco di aumento di contagi, ovviamente è facile capire che non dipendono dalle nostre attività, lo dicevo in altre situazioni noi non creiamo assemblamenti, quindi abbiamo davvero un protocollo di sicurezza molto serio e che rispettiamo tutti. Quindi ovviamente la speranza è che si capisca che alla fine non lo abbiamo fatto male, perché solo alcune categorie rientrano in queste chiusure che alla fine non aiutano nessuno e vanno a ledere la dignità personale nostra. La protesta di parrucchieri ed estetisti è stata ben accolta dall'amministrazione comunale di Andrea. Nei giorni scorsi il sindaco Giovanna Bruno ha ricevuto una delegazione per aprire un dialogo, da qui nasce l'idea dell'appello ai cittadini affinché tutti possano essere più attenti. Fondamentalmente noi ci siamo rivolti ai cittadini perché è la nostra ancora di salvezza, l'unica in questo periodo. Purtroppo le istituzioni ci ignorano, le istituzioni locali sono state anche abbastanza benevole perché ci hanno ascoltato più volte ma non hanno il potere di fare niente e di cambiare niente.